Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Video che necessitava di essere portato perché Magic dopo aver fatto la collaborazione con il Signore degli Anelli Con Fallout, con Jurassic Park, con poi Final Fantasy, con mille e mille altre robe Ha deciso di farlo pure con la Marvel E qui, diciamo che potrebbe essere una roba abbastanza enorme prima di iniziare Come sempre, ragazzi, invece scrivono i primi esempi aggiornati Mi raccomando, è importantissimo, ci ha aiutato tantissimo l'iscrizione Grazie mille E andiamo a vedere che i dettagli sono pochi Però porca puttana, scusate, ma porca puttana Magic e Marvel pure Che è rimasto nel globo da fare introdurre in Magic dei Cadre Che è rimasto? Niente Che è rimasto? Mancano i manga Manca qualcosa di Dragon, buttiamoci Dragon Ball Comunque, due titani dell'intrattenimento presenti nei negozi di tutto il globo Uniscono le forze Sarà un mondial troppo E quindi ci saranno dei set booster Oppure dei play booster Che ormai cambieranno Non ci saranno più draft E set booster Ci sarà tipo il play booster E una roba del genere Però fondamentalmente È un set Non è un secret layer Quindi è un set Con cui possiamo andare a fare il pre-release Che sarà molto probabilmente Giocabile in Modern In Commander Raga, voi vedete il Commander De Capitan America De Iron De Thor De Thanos Diciamolo uno che Che non è mainstream Però io so quelli Ti sentri, eh? Voi ve lo vedete Un grandissimo Commander di Sentri Oppure Un Commander di Adam Warlock Ma non quello dei Guardiani della Galassia Ma quello Della saga dell'infinito Eh? Oppure Di coso Nel Dottor Destino Di Galactus Di Mephisto Cioè La voglia Teoricamente c'è anche Dracula Quella della Mar Però Quello Un capitolo a parte Comunque Molto molto interessante Eh Ci sono pochi dettagli Al momento Però dovrebbe Dato che mi pare Che Magic Ha annunciato Tutti i prodotti Del 2025 2027 Addirittura Mi pare Però Comunque Dovrebbe essere un set Che comunque Uscirà fra un Minimo Un paio d'anni Al momento Comunque Le informazioni Sono poche Sappiamo solo Che qualcuno Si sarà Si starà Facendo qualche Che raspona Quattro mani Per questa Collaborazione Quindi Cavolo 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 Tanta Tanta roba Complimenti A Magic Perché È una Collaborazione Enorme Detto questo Ragazzi Fatemi sapere voi Cosa deve pensare Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto A tutti